Ci troviamo sul set del nuovo video che state girando in una location eccezionale. È una storia d'amore contrastata, un classico matrimonio degli anni 50 che comunque ha un lieto fine su un brano con molti... Non anticipo, non dico più niente. Ti fai parlare direttamente del protagonista principale di questa... Chi è il protagonista? Ah, chi è il protagonista? Un certo Gio... 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 Ah, Giovanni! Ah, quello... però ci sono... Tante... e tanto altro... e tanto altro... Ho detto tutto? No, 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 scherzo. Insomma, io ti dico solo questo, che loro due già sono bravi. Hanno fatto un bel pezzo, un bel brano. Hanno messo su una location molto molto bella. Degli attori, secondo me, a parte me, gli altri sono molto bravi. E poi continuo lui, perché io non parlo, anzi, balbetto. Quando uscirà questo nuovo video? Perché deve uscire? No, no, noi contiamo di non farlo uscire. No, noi contiamo di non farlo uscire. Aspetta, scusa, tu intendi dire quando sarà pronto? Quando sarà pronto. Ah, no, quando uscirà, perché come... Ma noi lo possiamo dire? Sì. Allora, verso settembre 2013, ovviamente, faremo molto scruscio, ma lui lo sa. Dio a lui, dio a lui, dio a lui. Fare i seri con i Calandria e i Calandria è un po' difficile. Riassumirci tu un po' il significato di questo video. Allora, il significato di questo video vuole far vedere un po' un nostro matrimonio classico, tutto in retroscena, ma in maniera ironica, prendendoci in giro e divertendoci. Benedetto, invece tu, la tua parte? Il mio ruolo è esattamente il papà di Giovanni Cangelosi, sono il papà dello sposo. Nel paese ci sono delle situazioni che poi vedrete effettivamente nel video. In questo video c'è proprio un intreccio, c'è un matrimonio, ci sono tradimenti, cosa c'è di altro? Niente, per una scena che è rubero le fedi ai sposi. E poi vi lascio nel dubbio cosa succederà dopo. E' fantastico lavorare con loro e anche con Calandria e Calandra. E adesso oggi finiremo la penultima scena e domani ci sarà la scena della chiesa dove si svolgerà il matrimonio. Questa è la mia prima esperienza. Come ti è sembrata? Bella, bella. Madre dello sposo, come si è trovata in questa parte? Benissimo, mi sono trovata bene, spero di averle dato il meglio, spero. Mi sono sentita proprio la madre dello sposo. Grazie a tutti.